Ciao da Luci, oggi facciamo insieme questo bellissimo chalet double face perché vedete ha una metà lavorata in un modo e una metà lavorata in un altro ho scelto questi due punti che sono assolutamente semplici come vedete sulla mia destra c'è il punto grenny il classico chalet punto grenny mentre sulla sinistra c'è questa lavorazione che è uno chalet che si sta vedendo molto in giro ultimamente vedete è fatto tutto a ventaglietti alternati fra loro quindi creano questi bei ventaglietti sono due punti assolutamente semplici e che insieme direi che stanno benissimo perché vedete abbiamo poi la parte che finisce dritta e la parte che finisce tutta a ventaglietti quindi la particolarità di questo chalet è proprio che ha questa diversa lavorazione da un lato e dall'altro per fare il mio chalet ho usato un uncinetto numero 3,5 guardate com'è concio questo uncinetto poverino ormai sta lasciandoci le cuoia un uncinetto numero 3,5 e questo bellissimo filato baci rubati allora qua c'è scritto proprio che è della mistrico è un no peeling quindi guardate dentro della me io adesso non so se si vede molto dalla registrazione ma dentro un bellissimo lame color argento vi assicuro che non pizzica ed è un filato molto molto morbido veramente adatto anche se si vuole per capi per bambini perché veramente non pizzica allora vi dico la composizione è un 100% microfibra perché ha dentro vari sintetici 97 microfibra 3% poliestere 97 un'altra volta microfibra insomma ha dentro no ripeteva due volte la stessa cosa vabbè lasciate perdere 97 microfibra e 3% poliestere un 50 grammi sono 130 metri io vi dico anche il colore è lo 07 nel caso cerchiate la stessa colorazione è un bellissimo rosa antico e questo filato lo trovate su www.unfilodipassione.it vi lascerò in descrizione sia il link allo shop dove potrete trovare questi e altri filati e appunto anche il link diretto al mio filato di modo che se vorrete prendere lo stesso colore lo stesso filato potete tranquillamente cliccare sopra il link e vi manderà direttamente sul filato che ho usato io bene io direi che ora possiamo passare al tutorial eccoci qua allora andiamo a fare il nostro anellino magico in questo modo voi sapete già come si fa l'anellino magico io lo stringo un attimino facciamo l'anellino magico andiamo a fare 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta nel nostro anellino andiamo a fare altre 3 maglie alte per un totale di 4 appunto con le nostre prime 3 catenelle quindi 2 e 3 voilà stringiamo ancora un po' il nostro anellino ecco 2 catenelle di separazione e di nuovo 4 maglie alte quindi 1 1 2 3 e 4 stringiamo il nostro anellino magico ed ora possiamo partire con il nostro primo giro perché questo qua è proprio la preparazione al punto il nostro primo giro sarà così quindi andiamo a fare 3 catenelle che sarà la prima maglia alta 1 catenella di separazione intanto voltiamo il lavoro carichiamo e nella maglia successiva andiamo a fare di nuovo 1 maglia alta di nuovo 1 catenella di separazione maglia successiva 1 maglia alta di nuovo catenella di separazione maglia successiva 1 maglia alta quindi ci ritroviamo su questo lato con 1 2 3 e 4 maglie alte di nuovo catenella di separazione andiamo nell'angolo quindi nello spazietto delle due catenelle e facciamo un'altra maglia alta in questo modo 1 ecco qua ora facciamo 2 catenelle di separazione perché comunque siamo nell'angolo carichiamo e andiamo a fare il nostro primo modulo grenni quindi andiamo a fare sempre nell'angolo sottostante 3 maglie alte quindi 2 e 3 1 catenella di separazione il prossimo punto grenni lo andiamo a fare quindi saltiamo 3 maglie alte sottostanti tra le 3 e la quarta quindi andiamo in questo modo entriamo proprio tra la penultima e l'ultima maglia del giro sottostante e andiamo a fare il nostro ecco qui modulo grenni quindi 3 maglie alte tutte nello stesso spazio 2 e 3 una catenella di separazione e sempre nello stesso spazio ne facciamo una quarta in questo modo abbiamo terminato il nostro primo giro vedete ora risulta un po' stortino ma non vi preoccupate andando avanti si raddrizza quindi partiamo con il nostro secondo giro effettivo perché il primo non lo calcolo come giro saranno sempre comunque questi giri allora partiamo con il secondo giro facciamo 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta voltiamo il lavoro e ne facciamo una quarta che è quella per saltare entriamo dove abbiamo fatto quindi subito qui nello spazietto prima delle prossime 3 maglie quindi tra la prima maglia che troviamo sotto e le altre 3 maglie avevamo fatto una catenella in questa catenella ci infiliamo e andiamo a fare il prossimo modulo granny quindi 3 maglie alte 2 e 3 una catenella saltiamo il modulo granny sottostante e entriamo nel prossimo spazietto qui e facciamo altre 3 maglie alte quindi il prossimo modulo granny 2 e 3 di nuovo catenella ed entriamo nell'angolo quindi saltiamo il modulo sottostante da 3 e entriamo direttamente nell'angolo con il nostro nuovo modulo granny quindi 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle e riassumiamo quello che abbiamo fatto in questa metà di scialle quindi abbiamo fatto le prime 3 catenelle che sono una maglia alta una catenella di separazione e nel primo forellino che si crea tra la prima maglia e le altre 3 sottostanti abbiamo messo 3 maglie alte quindi il primo modulo granny una catenella nel prossimo spazietto altro modulo granny una catenella e sull'angolo quindi proprio nell'angolino nella 2 catenelle centrali allo scialle abbiamo fatto un altro modulo granny più 2 catenelle quindi ora proseguiamo con l'altra metà di scialle che sarà lavorata in un altro modo finita la metà granny partiamo con l'altro disegno quindi abbiamo fatto le 2 catenelle di separazione che sono le 2 catenelle dell'angolo ora gettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e sempre nell'angolo sottostante entriamo e andiamo a fare una doppia maglia alta quindi usciamo da 2 da 2 e da 2 e abbiamo fatto la nostra prima doppia maglia alta facciamo 4 catenelle 3 e 4 mi sono infilata in un filino ecco qua aspettate 4 dopodiché gettiamo di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto e sempre nello stesso spazio sottostante quindi sempre nell'angolo andiamo a fare la nostra seconda doppia maglia alta praticamente andremo a fare con la doppia maglia alta un punto B separato da 4 catenelle ora facciamo 2 catenelle e saltiamo 2 maglie alte sottostanti sulla terza facciamo una maglia bassa in questo modo ora altre 2 catenelle e nello spazio quindi l'ultimo spazio che incontriamo quindi tra la maglia alta dovevamo fatto maglia alta catenella maglia alta quindi l'ultimo andiamo di nuovo a gettare il filo due volte e andiamo a fare di nuovo il punto B con la doppia maglia alta quindi usciamo da 2 da 2 e da 2 facciamo 4 catenelle di nuovo gettiamo due volte il filo sull'uncinetto rientriamo nel medesimo spazietto sottostante ed andiamo a fare di nuovo una doppia maglia alta vedete adesso risulta molto assimmetrico lo scialle vi assicuro che man mano che lavoriamo diventerà sempre più insomma si stabilizzerà un attimino di fatto noi il primo e il secondo giro che abbiamo fatto in precedenza non li ripeteremo più andremo avanti a ripetere solo il giro che abbiamo fatto in questo momento e il prossimo giro quindi lo scialle sarà tutto un susseguirsi di terzo e quarto giro perché abbiamo il primo è l'avvio il secondo per creare poi i giri successivi noi andremo a ripetere sempre questo terzo e il quarto giro per tutto lo scialle quindi ve lo faccio rivedere più volte comunque andremo sempre a ripetere il terzo e il quarto giro quindi andiamo subito a fare il nostro quarto giro eccoci qui iniziamo con il nostro quarto giro quindi andiamo a fare 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta voltiamo il lavoro e all'interno dell'archetto che incontriamo proprio qui andiamo a fare 3 maglie alte quindi 1 2 3 2 catenelle e di nuovo sempre nello stesso archetto sottostante scusate altre 3 maglie alte quindi 2 e 3 senza nessunissima catenella vedete che avevamo fatto una maglia bassa qui in mezzo andiamo a lato quindi andiamo alla destra di questa maglia bassa e facciamo una maglia bassa poi facciamo una catenella andiamo alla sinistra di questa maglia bassa e facciamo una maglia bassa quindi abbiamo fatto una maglia bassa una catenella sopra la maglia bassa sottostante e una maglia bassa nell'archetto che si crea appunto tra la lavorazione ora carichiamo andiamo a fare di nuovo nell'angolo perché qui siamo di nuovo no anzi non è questo l'angolo scusate l'angolo è questo andiamo nel punto vi creato sotto dalle due maglie altissime separate dalle quattro catenelle quindi andiamo a fare altre tre maglie alte una due e tre due catenelle e altre tre maglie alte sempre nel medesimo spazio una due e tre quindi ora non facciamo altro che fare ecco qua siamo giunti all'angolo quindi facciamo due catenelle entriamo in questo spazietto che sarebbe di fatto l'angolo e andiamo a fare carichiamo una volta e andiamo a fare il nostro modulo da tre grelli quindi tre maglie alte ora voi sembrerà storto l'angolo ma vi assicuro che non lo è quindi aspettate che mi sono incastrata due e tre una catenella quindi qua facciamo direttamente i moduli grelli come si lavorano quindi la catenella per saltare le tre maglie sottostanti e nel prossimo spazietto andiamo a fare altre tre maglie alte quindi la lavorazione grelli a tutti gli effetti due e tre di nuovo una catenella per saltare il modulo sottostante nel prossimo spazietto di nuovo un altro modulo da tre maglie alte quindi una due e tre catenella andiamo tra il modulo e la maglia alta singola ci inseriamo ecco gettiamo ci inseriamo e facciamo un modulo da tre in questo spazietto quindi una due tre maglie alte una catenella e di nuovo una maglia alta che è quella che ci serve per poi aumentare di un modulo nel prossimo giro vedete questo è quello che vi ritroverete al termine del nostro quarto giro e vi assicuro che la ripetizione sarà sempre il giro precedente a questo e questo però adesso facciamo altri due tre giri insieme così vi porto a capire proprio il procedimento quindi in questo momento ci rialziamo con le tre maglie alte una due tre voltiamo il lavoro scusate con le tre catenelle non le tre maglie alte tre catenelle facciamo una quarta catenella che sarà lo spazietto dove faremo l'aumento nel prossimo giro carichiamo e vedete proprio nello spazietto della catenella sottostante andiamo a fare il nostro primo modulo da tre quindi una due tre catenella saltiamo le tre maglie entriamo nel prossimo archetto da una catenella quindi e andiamo a fare di nuovo un modulo da tre quindi stiamo lavorando il granny semplicissimo una catenella quindi andiamo nel prossimo spazietto a fare altre tre maglie alte due e tre una catenella andiamo nel prossimo spazietto e facciamo le nostre tre maglie alte una due e tre una catenella prossimo spazietto tre maglie alte una due vedete che poi non abbiamo più uno spazietto sotto qui abbiamo il nostro ventaglietto quindi cosa facciamo le due catenelle perché significa che siamo nell'angolo siamo arrivate nell'angolo facciamo le due catenelle carichiamo due volte il filo vedete stiamo ripetendo il giro sottostante entro nello spazietto che mi trovo dove ho fatto le mie tre maglie alte quindi nello stesso spazietto entro e vado a fare la mia doppia maglia alta quindi due e tre esco da due da due e da due quattro catenelle una due tre e quattro e nello stesso spazietto di nuovo getto due volte vado a fare la seconda doppia maglia alta quindi abbiamo fatto di nuovo il punto V creato da doppia maglia alta quattro catenelle e doppia maglia alta ora facciamo due catenelle ed entriamo in questo spazietto con una maglia bassa di nuovo due catenelle vi ricordate che avevamo fatto nel giro precedente maglia bassa catenella maglia bassa quindi entriamo quindi avvolgiamo due volte il filo sull'uncinetto in questa catenella tra le due maglie basse proprio qua entriamo e andiamo a creare un altro punto V fatto da doppie maglie alte quindi facciamo la prima doppia maglia alta quattro catenelle di nuovo due volte gettiamo il filo sull'uncinetto entriamo nello stesso spazietto da una catenella e andiamo a fare la nostra di nuovo doppia maglia alta vedete abbiamo creato un altro punto V quindi di nuovo facciamo due catenelle una e due entriamo al centro del prossimo ventaglietto quindi vedete abbiamo le tre maglie alte due catenelle tre maglie alte entriamo qui con la nostra maglia bassa di nuovo due catenelle ed ora qua tra il modulo da tre finale e la maglia che avevamo fatto in più per alzarci quindi saltiamo tre maglie tra la terza e l'ultima maglia di nuovo avvolgiamo due volte ci inseriamo in quello spazietto tra le due maglie e andiamo a fare la nostra prima doppia maglia alta quattro catenelle seconda doppia maglia alta una due e tre esco da tre ecco qua vedete cosa abbiamo al termine di questo giro quindi noi vedete stiamo alternando sempre gli stessi giri ora facciamo insieme ancora una volta il giro di ventaglietti e poi vi assicuro che vi verrà tutto molto automatico perché è sempre la stessa lavorazione quindi adesso andiamo a fare il giro di ventaglietti quindi di nuovo tre catenelle volto il lavoro all'interno quindi nel centro del punto V sottostante vado a fare tre maglie alte una due tre due catenelle e di nuovo tre maglie alte sempre nel medesimo archetto due e tre andiamo a fare di nuovo vedete abbiamo la maglia bassa singola al centro del ventaglio andiamo con una maglia bassa alla destra della maglia bassa sottostante la scavagliamo con una catenella e alla sinistra di quella stessa maglia bassa andiamo a fare una maglia bassa quindi lavorando proprio sugli archetti che si creano negli spazietti tra moduli di nuovo carichiamo e andiamo a fare sul prossimo punto V andiamo a fare tre maglie alte quindi un nuovo ventaglietto due catenelle e di nuovo tre maglie alte una due e tre di nuovo abbiamo le catenelle maglia si maglia bassa e catenelle quindi alla destra della maglia bassa facciamo una maglia bassa una catenella per scavallare la maglia bassa sottostante e alla sinistra della maglia bassa andiamo a fare un'altra maglia bassa creando così vedete lo spazietto di una catenella dove poi creeremo un nuovo punto V nel giro successivo quindi andiamo a fare di nuovo un altro ventaglietto quindi una due tre maglie alte due catenelle e di nuovo tre maglie alte nello stesso nello stesso archetto sottostante tre eccoci qua fatto questo facciamo le due catenelle che sarà il nostro angolo e nel prossimo dal prossimo vedete abbiamo fatto l'ultimo ci troviamo una maglia altissima separata quindi da una catenella e poi il primo modulo da tre tra la maglia altissima e il modulo da tre andiamo ad aggiungere un altro modulo da tre quindi ricominciamo col punto granny quindi facciamo le tre vedete le tre maglie alte una catenella prossimo spazio tre maglie alte una due tre una catenella prossimo spazio tre maglie alte una due tre una catenella prossimo spazio tre maglie alte una due tre una catenella di nuovo prossimo spazio tre maglie alte una due tre una catenella vedete abbiamo il modulo da tre e poi abbiamo una catenella che divide la maglia alta singola e andiamo a fare proprio lì dentro il modulo da tre l'ultimo quindi uno due tre una catenella e sempre nello stesso spazio la maglia alta singola vedete abbiamo questo poi man mano che andremo avanti lo scialle prenderà forma però avete visto che è sempre un susseguirsi di questi due giri quindi il giro di punto V creato dalle due doppie maglie alte con le quattro catenelle di separazione è il giro dei ventaglietti è veramente molto molto semplice io vi faccio rivedere il mio scialle eccolo qua ve lo faccio rivedere allora eccolo qua vi posso dire io ho fatto uno scialletto è più battus se volessi a me non piacciono molto molto grandi anche se li porto sulla schiena e non messi a battus mi piacciono più bassi e vi dico che vi conto i giri vi conto i giri perché poi dipende anche da che filato fate quindi ho fatto i primi due giri lo sapete noi li contiamo al fine del lavoro però i primi due giri non contano per la lavorazione perché noi ripeteremo sempre il terzo e il quarto il terzo e il quarto quindi io vi conto gli angoli sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta trentuno trentadue trentatré trentaquattro trentacinque trentasei trentasette trentotto trentanove trentanove trentanone trentatré 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 trentaquattro trentacinque trentacinque trentasei giri io quindi per il mio scialle ho fatto trentasei trentatré io spero che vi piaccia veramente tanto questo scialle quanto piace a me perché la lavorazione penso che prima d'ora non si era mai visto uno scialle con due punti diversi ma con separazione in verticale di solito si usano più punti ma con separazione in orizzontale io vi ricordo il filato che ho utilizzato che è il baci rubati della Mistrico Filati andate a visitare lo shop www.unfilodipassione.it dove troverete questo filato ed altri che userò anche in futuro vi mando un grosso bacio per qualsiasi domanda volevo dirvi che per tutte le mie follower l'amico Alessandro mette a disposizione un buono sconto del 10% sull'acquisto di qualsiasi filato o qualsiasi cosa all'interno del suo shop mettendo il codice LUCI10 al momento del pagamento quindi è un regalo che lui fa alle mie follower quindi alle mie amiche se volete venire a trovarmi lo sapete mi trovate sempre nel gruppo Facebook Creando con Lucia e Franci oppure nel mio Messenger contentandomi privatamente in Messenger Lucia Vela vi mando un grosso bacio al prossimo tutorial ciao ciao da Luci a presto grazie a tutti